Il camionista di Napoli è troppo lungo, comunque un donerietto, non lo sapete, parlando con un collega fa, o no? Ma tu vorrei che andrà su per i tuoi termini da sti sei uomigliere, ma non c'è cosa... Ehi, che sussi tu, ma poi non si manca bravo, che cimmi ci andava a casa, telecamera, cosa... Tu hai fatto il tema antico, cosa c'è a fare? Tu ti ho accattato un po' al palollo, come sai, c'è una volta che i labbrani si chiamano che un lato parla, che quando vuoi, ti dice tutto quello che ha visto, ma se ti piace, vai dall'uccelleria, il giorno trissero il Pappavallo brasiliano, io l'ho pagato, non ci sono onesti, ma non è rimasto uno su, ma c'era un difetto, e che difetto è? Che trovi il Pappavallo è andato senza i zanni, senza i zanni, e intanto abbia una stessa interna, come se mi dice, no, no, non dovrebbe fuocare, malformazione congenita, anzi, sposti i piumi, caccio stupisci di loro sui, fuggire attorno a sticca, e se mi dice, ... un'euro, 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 un'euro. Non è che il suo caldo, non è che il suo caldo.